Combinando vari ingredienti, come tu hai detto, una matrice di pisello di soia con l'aggiunta poi di, per esempio, olio per simulare il grasso, olio di cocco principalmente, abbiamo poi il succo di barbabietola, ad esempio, per simulare il sangue. E poi abbiamo anche chi, anche qua in Italia, utilizza l'estrusione umida per andare a ricreare proprio la texture, ad esempio la consistenza del pollo o di crocesi e altra carne. Come dicevo c'è un grandissimo lavoro di ingegneria alimentare.